Condizioni igienico-sanitarie compromesse nell'Istituto Penale Minorile di Airola, in provincia di Benevento, dove viene segnalata la presenza di numerosi ratti di medie e grosse dimensioni che circolano all'interno del reparto articolo 21. A denunciarlo in una nota congiunta sono i sindacati della Polizia Penitenziaria che hanno inviato una lettera, tra gli altri al capo dipartimento della giustizia minorile Antonio Sangermano e al direttore generale Giuseppe Cacciapuoti. Ai vertici viene chiesto di prendere seriamente in considerazione la chiusura anticipata dell'IPM in attesa della ristrutturazione approvata dal PNRR. Secondo quanto viene sottolineato nel comunicato, la presenza dei ratti è dovuta soprattutto alle condizioni faticenti della struttura, dove sono compromesse le condizioni di vivibilità. Sinappe, Wilpa, USPP e CGL e Funzione Pubblica chiedono interventi incisivi e urgenti per prevenire una vera invasione e infine la chiusura anticipata dell'Istituto Penale Minorile. Grazie.